In data odierna i carabinieri del Comando Antifasificazione Monetaria con il supporto del Comando Municipale di Napoli hanno dato esecuzione all'ordinanza di custode cautelare nei confronti di 24 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla vendita e messa in circolazione di banconote contraffatte. L'operazione condotta per oltre un anno e coordinata dalla Procura Repubblica di Napoli ha permesso di disarticolare un'organizzazione criminale operante nel quartiere vasto di Napoli e le attività avvenivano all'interno di un appartamento, un basso, e fungevano da vero e proprio esercizio commerciale con apertura e chiusura che normalmente era dalle 12 alle 19.30, esclusi giorni festivi. Nel corso dell'operazione sono stati localizzati due depositi per mantenere le banconote contraffatte e una serie di motoveicoli utilizzati per portare le banconote agli acquirenti. L'attività, oltre alle 24 ordinanze odierne, ha permesso anche di arrestare in reata 8 soggetti e di sequestrare banconote contraffatte per un valore di oltre 480 mila euro in banconote da 50 e 100.